Oh, cosa? T'ho l'iscizzione? No, io sono il cugino di San Diego, Fitness Tony. Mitico, non ho mai visto un mafioso usare la tuta per allenarsi. E non c'è esercizio migliore che uccidere e sbudellare una spia grassa e grossa. Lo capisco, li volevo bene anch'io. Le tue lacrime non sembrano affatto di coccodrillo. Fai quello che devi fare. Prima mi uccidi qui sopra, prima lui mi potrà uccidere là sotto. Vieni con me sulla macchina ellittica. Ti lascio vivere per altri venti minuti. Ho lavorato per Tony Siccione ed è stato il capo migliore che abbia mai avuto. Bene, che strano. Cosa? Oh, Mr. Burns. Ah, anche lei, bravo. Oh, sai quanto ci credo. Mi ha portato a un incontro che aveva truccato, ma non l'ha mai fatto capire. Neanche quando io ho puntato 500 dollari sul pugile sbagliato. Poi ha detto che avrebbe dopato un cavallo per me. Homer, è arrivato il momento di passare alla modalità raffreddamento sulla macchina ellittica. Allora mi uccidi adesso perché io sono super pronto. No, perché mio cugino vive nei tuoi ricordi e farti fuori vorrebbe dire uccidere quanto ancora resta di lui. E dico, i killer sono stati buoni con me, mentre le persone che avrebbero dovuto proteggermi mi hanno trattato come una carogna. Che razza di mondo è questo? È davvero un bel casino. Ecco perché tengo vicini i miei amici. E i nemici ancora più vicini? No, perché dovrei farlo? Se fossero vicini mi ucciderebbero. Fitness Tony prese il posto del cugino a capo della criminalità di Springfield. Ma la pressione era troppa, così si mise a mangiare. E ben presto venne conosciuto come Fitness Tony Ciccione. Poi solo Tony Ciccione, tanto per abbreviare. E io ora sono un rincofregnon come tutti gli altri, incastrato in questo buco spettacolo.